Comincio a salutare e ringraziare Caterina Parrello e tutta l'organizzazione per aver voluto che partecipassimo a questo evento per condividere un po' delle esperienze che abbiamo fatto in questi anni. Voi sapete che quest'anno è un anno particolare perché quest'anno si terrà nel mese di luglio proprio qui a Milano la conferenza mondiale di ingegneria sismica. Noi come Università di Pavia, a Pavia voi sapete non c'è solo l'università, c'è anche un grande centro di ricerca di ingegneria sismica che si chiama U-Center, siamo molto coinvolti nell'organizzazione di questo evento. Pensate solo che la conferenza mondiale di ingegneria sismica torna in Italia nel 2024 dopo esserci stata nel 1973. Quindi sono tanti anni che questa fiorente comunità scientifica è uno dei paesi più rappresentati a tutte le conferenze di ingegneria sismica nel mondo. L'Italia però ospita questo evento dopo oltre 50 anni, lo so bene perché corrisponde più o meno alla mia età, quindi questo è un dato importante. E sempre più nelle conferenze sia a livello nazionale che a livello internazionale, la tematica della vulnerabilità del costruito esistente e la prevenzione e la protezione del patrimonio storico architettonico riveste un ruolo importante, sono sempre più i contributi che abbiamo su questo tema. Il titolo dell'intervento di oggi è, come sapete, come è scritto nel programma, vulnerabilità del patrimonio ecclesiastico tra osservazione e prevenzione. Allora partiamo proprio dall'osservazione. L'osservazione è che i terremoti più catastrofici, più impattanti della storia del nostro paese hanno purtroppo sempre lasciato un segno sugli edifici più arditi, sugli edifici anche più iconici e rappresentativi e tra queste ci sono soprattutto le chiese. Questi sono terremoti che vedete qua raffigurati in queste immagini di grande energia rilasciata, quindi sono terremoti molto forti se vogliamo semplificare un pochettino e vedete come abbiamo una zona colpita, quella che oggi chiamiamo cratere o zona rossa, che in questi eventi è stata abbastanza estesa ma molto più estesa è stata l'area di comuni in cui sono state danneggiate le chiese, proprio perché le chiese sono elementi di maggiore vulnerabilità. Anche i terremoti più piccoli, se vogliamo, qui vedete l'immagine in alto a sinistra è di un terremoto di magnitudo inferiore a 5 che c'è stato l'11 aprile del 2003 a Sant'Agata Fossili, Novi Ligure. Anche quel piccolo terremoto ha colpito le chiese, tanto è vero che noi siamo stati impegnati nella ricognizione dei danni provocati da quel sisma e la Regione Piemonte per limitazione sui fondi disponibili ha finanziato interventi di messa in sicurezza, almeno nel primo lotto, di una sola chiesa per comune. E questo ha coinvolto una larga parte dei comuni della bassa provincia di Alessandria. Quindi anche un terremoto piccolo come questo ha avuto un impatto significativo in termini di danneggiamento delle strutture più vulnerabili. Così come l'anno dopo il problema si è riproposto molto più vicino a noi, in Lombardia, il 24 novembre 2004, terremoto che ha colpito la Gardesana Bresciana, Salò. Oltre 50 chiese che sono state oggetto di interventi in quell'area. E qualche anno prima, dopo un periodo di relativa tregua concessa dagli eventi che hanno, non so se parte il video, di eventi che dopo i terremoti, la terribile sequenza, il 76 Friuli, il 79 La Valnerina, l'80 Lirpinia, c'era stata una relativamente lunga tregua di eventi di grande portata in Italia. Poi c'è stato il 26 settembre del 1997 una scossa intorno alla mezzanotte, un terremoto di magnitudo superiore a 6, intorno a 6, poi a seconda delle scale, purtroppo seguita a poche ore di distanza da una nuova scossa che ha colpito la stessa zona con una intensità simile e purtroppo causando ulteriori danni. Avete visto le immagini di quel video del sopralluogo fatto anche con il soprintendente, eccetera, nella Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi che da sola raccontava dei danni, diceva prima Don Luca, dei danni subiti anche nel tempo da quella struttura e purtroppo la sua struttura raccontava anche una storia di interventi, l'abbiamo scoperto un po' dopo questo, di interventi fatti con una limitata coscienza della loro portata e del loro impatto sulla risposta della struttura. E infatti poi il recupero e l'intervento che certamente era ampiamente giustificato dopo quei danneggiamenti è stato un restauro importantissimo e anche dal punto di vista strutturale ha richiesto di fatto la rimozione dell'intervento precedente, in particolare sulla copertura, per andare a riprodurre delle condizioni più favorevoli alla risposta. E questa maggiore conoscenza della risposta deriva anche tanto da lezioni imparate dai terremoti del passato. E devo dire che il terremoto del 1997 di lezioni ne ha insegnate tantissime. Lì abbiamo una svolta e poi purtroppo a rinfrescarci la memoria e a farci migliorare ancora nella comprensione del fenomeno ci sono stati eventi che si sono susseguiti poi anche recentemente. Qui abbiamo immagini del terremoto dell'Aquila, qui siamo proprio all'Aquila. L'Aquila rappresenta un caso particolare perché era dal terremoto del 1908, cioè dal terremoto di Reggio Calabria e Messina che non abbiamo un terremoto vicino a una città importante. L'epicentro del terremoto è sostanzialmente nel comune dell'Aquila in questo caso. L'Aquila è una città non grandissima, con i nostri parametri, è grande come Pavia per dirvi. Non è una città grande però è un capoluogo di Regione. C'è una serie di funzioni che sono state in qualche modo messe in crisi proprio da questo danneggiamento e ovviamente essendo un capoluogo di Regione importante ospitava una serie di edifici ecclesiastici appunto di un patrimonio di notevole importanza. Che purtroppo si è visto, l'Aquila ricostruita dopo il terremoto del 1703, quindi a distanza di 300 anni abbiamo un patrimonio che si era stratificato e in buona parte costruito in un determinato periodo storico. E purtroppo anche qui il costruito esistente ha mostrato tutta la sua vulnerabilità, tutta la sua fragilità. Le elezioni purtroppo continuano e a distanza di tre anni andiamo in una zona che tutti consideravamo molto più tranquilla o meglio, l'Aquila era classificata in zona sismica dagli anni 20. Quindi stiamo parlando di una zona in cui la progettazione era già una progettazione che doveva richiedere diciamo una cautela particolare, dettagli particolari e calcoli particolari. Così non è stato fino al 2004 di fatto in Emilia, in alcune zone dell'Emilia, quelle colpite in particolare dai terremoti del 2012, due terremoti in magnitudo intorno a 6, il 20 e il 29 maggio del 2012, a breve distanza l'uno dall'altro, hanno colpito questo territorio che ospitava pochissimi edifici già progettati per resistere al terremoto e la maggior parte, in particolare quelli parte del patrimonio storico, non lo erano e uno non avevano subito interventi se non appunto nei casi più fortunati di manutenzione, più che altro. Come diceva Don Luca, anche la manutenzione è un tema perché la vulnerabilità col degrado diciamo aumenta e progredisce, quindi la cura dei beni è sicuramente il primo passo per migliorare nella conoscenza e nella prestazione, anche poi possiamo attenderci dalle nostre strutture. dai terremoti, come dicevamo, si impara, si impara tanto. Qui vedete due immagini di due chiese danneggiate dallo stesso evento, una è a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altra. Una è nel centro di Mirandola, la chiesa di San Francesco e l'altra si trova in un paese vicino, San Felice sul Panaro, anche tra quelli più colpiti dagli eventi del 2012. Vedete però come il danno è molto diverso. Nel caso di San Francesco, che è una chiesa a orientamento classico est-ovest, il danno è un ribaltamento delle pareti laterali e quindi dell'aula. Viceversa, nel caso della chiesa di San Giuseppe, che ha un orientamento sostanzialmente nord-sud, la facciata guarda verso sud, abbiamo avuto un danneggiamento caratterizzato dal ribaltamento del timbro, della parte sommitale della facciata. Questo perché quel terremoto in particolare aveva, il professor Lai è sicuramente la persona più indicata per correggermi se dico delle cose non esatte, però aveva una forte caratteristica di direttività, cioè una componente prevalente rispetto all'altra. Quindi anche dai danni si intuiscono delle cose. E come diceva Don Luca prima, ho apprezzato moltissimo, la storia di questi danni e questa storia di danni che ci arriva tramite molteplici tipologie di informazioni. Voi pensate che in Italia abbiamo un catalogo di terremoti, i terremoti del passato che è ricchissimo. Noi abbiamo una sismicità piuttosto complicata, non è la faglia di San Andreas che è lì, si vede. Noi abbiamo una serie di piccole strutture che possono generare terremoti, in particolare nell'area penninica sono anche molto complesse e solo parzialmente conosciute. Abbiamo però il vantaggio di avere vissuto, di avere avuto una storia di civilizzazione su il territorio nazionale italiano molto lunga. Quindi abbiamo un catalogo di terremoti che nella maggior parte dei casi, almeno per gli eventi principali, può essere di duemila anni di storie degli eventi. Quindi possiamo avere informazioni su questi terremoti di cui conosciamo la notizia, il fatto di esserci stati. E poi ci sono degli studi storiografici essenzialmente di attribuzione di questi terremoti ad una certa località di epicentro e una certa magnitudo. Ma come si fa questa operazione? Si parte dai danni, cioè si parte dall'intensità macrosismica, dalla diffusione del danneggiamento che c'è stata. Ma questa informazione non è frutto quello che avremmo oggi, cioè un rilievo del danno. È frutto di informazioni reperite in varie forme. E queste varie forme nascono dall'archivistica, nascono in molti casi i diari parrocchiali in cui c'è la traccia delle spese sostenute per la riparazione. Sono direttamente informazioni che ci dicono qual è stata l'entità del danno e qual è a questo punto la sua estensione spaziale. E così si ricostruisce con buoni risultati la magnitudo degli eventi del passato. Perché i dati satellitari sono di 15 anni, la disponibilità di registrazione accelerometriche è di qualche decina di anni e diciamo tutto sommato con una copertura del territorio piuttosto limitata. Queste informazioni invece sono molto più ricche e sarebbe un delitto non averle considerate perché noi adesso parliamo di vulnerabilità oggi ma essenzialmente la vulnerabilità produce un rischio nel momento in cui il bene vulnerabile è esposto a un pericolo che è il pericolo del terremoto. E perché sono così vulnerabili le chiese? Perché sono architetture più ardite. Queste immagini, vedete, rispetto a un edificio ordinario la chiesa non ha solai intermedi, ha luci molto più lunghe. Insomma è naturalmente, intrinsecamente più vulnerabile. E della vulnerabilità delle chiese ho detto che è stato molto importante il terremoto del 97 e tutta la mole di oltre 3.000 chiese schedate con una scheda che poi nel tempo è diventata poi uno strumento ufficiale del Ministero per i beni e le attività culturali, in realtà nasce dall'osservazione di danni anche di terremoti precedenti. In particolare quello che ha segnato un po' uno spartiacque è un lavoro fatto dai colleghi anche del Politecnico di Milano, il professor Petrini, che insieme a Doglioni e a Moretti ha poi pubblicato a distanza di qualche anno questo libro che si chiama appunto Le chiese e il terremoto, che raccoglie un po' il danneggiamento sistematicamente osservato nelle chiese in cui si è notato che ci sono alcuni meccanismi di danno ricorrenti che vengono localizzati in alcune porzioni specifiche della chiesa. La chiesa tende ad avere, non sempre, ma tende ad avere una composizione per parti che tendono ad avere un comportamento tendenzialmente indipendente. Allora abbiamo la facciata che tende a ribaltare o che tende a danneggiarsi nel piano, abbiamo la torre campanaria, poi parleremo di campanile ampiamente, abbiamo altri elementi, l'arco trionfale, eccetera, che sono presenti quasi sempre, non sempre, ma tendono ad avere comportamenti che si riconoscono e si ripetono su edifici diversi, in caso di eventi diversi. Questa osservazione ha prodotto poi, e qui invece il contributo grande è del professor Lago Marsino dell'Università di Genova, una schedatura sistematica di questa vulnerabilità, di questi meccanismi che si osservano per macroelementi, queste porzioni architettoniche in cui possiamo considerare la chiesa sia composta. Questi meccanismi sono stati catalogati in una prima versione della chiesa, sfortunatamente non adottata completamente dal Ministero. A questi meccanismi erano associati diversi livelli di danno, ma anche veniva censita nel rilievo del danno la presenza di elementi che potevano incrementare la vulnerabilità nei riguardi di quel meccanismo o ridurla. sono state definite queste schede che alla fine adesso è arrivata in una versione matura che contempla 28 meccanismi che sono qui raffigurati in questo abaco e che ormai normalmente alla valle di ogni singolo evento sismico viene compilata per il censimento del danno osservato e a partire da questo la valutazione dell'agibilità e di altri provvedimenti che eventualmente devono essere presi in considerazione. A partire dal danno c'è la compilazione di un indice di danno, che è un indice di danno che è media o coglie i massimi dei danneggiamenti sui singoli macroelementi e questa scheda che è un documento ufficiale e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2006 è stata utilizzata dopo il terremoto dell'Aquila, dell'Emilia e anche il terremoto dell'Italia centrale che la sequenza sismica di eventi che nel 2016-17 hanno colpito le regioni di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. quello che vedete è una zona colpita molto ampia, di fatto mentre i comuni più colpiti pur essendo diciamo in una zona tutt'altro che ristretta sono alcuni comuni principali Amatrice, Accumoli, Norcia, Arquata del Tronto, Acquasanta, Visso e alcuni altri i comuni in cui sono state danneggiate e c'è stata la necessità di rilevare le chiese sono stati ampiamente diffusi sulla quasi totalità di queste regioni colpite quindi ci sono province nel nord delle Marche in cui sono state censite e rilevate delle chiese su cui sono stati riscontrati danni fortunatamente lievi a distanza ma indotti da questi stessi eventi. e questa attività ha visto coinvolti anche appunto ricercatori del consorzio ReLuis che è la rete universitaria dei laboratori di ingegneria sismica della fondazione U-Center e in particolare un gruppo è stato coordinato dall'università di Pavia. Tutto questo danneggiamento non è stato rilevato appunto in questo rilievo non è fine a se stesso ma questo rilievo del danno è stato poi organizzato grazie al lavoro della fondazione U-Center in un database che insieme alla protezione civile è stato chiamato Dado Chiese perché è il database del danno osservato chiese perché è la sezione specifica relativa al danno alle chiese. Sulla base del danno è rilevato nelle varie chiese e la loro localizzazione e quindi l'associazione ad ogni singola chiesa di un livello di scuotimento che c'è stato per effetto del terremoto in termini di accelerazione massima del terreno o di altri indicatori sintetici del livello di scuotimento è stato possibile per la prima volta in modo un po' organico su base osservazionale rilevare queste curve. Vedete queste curve che vediamo in basso a destra ci danno la probabilità che su una singola chiesa che appartiene a una certa tipologia purtroppo al momento non sono state individuate troppe sottotipologie però abbiamo la probabilità che quella chiesa se subisce un terremoto con quella accelerazione del terreno superi un certo danno ovviamente a parità di accelerazione è più probabile che superi il danno lieve e poi via via la probabilità che collassi è molto minore però questa definizione della curva di fragilità che è un indicatore della vulnerabilità sismica della chiesa è un ingrediente fondamentale quando parliamo di rischio ed è anche l'unico ingrediente su cui possiamo veramente intervenire cioè noi come comunità di professionisti non possiamo certo mitigare la pericolosità possiamo certamente controllare che la pericolosità sia adeguata non possiamo modificare più di tanto l'esposizione non è che possiamo spostare il manufatto in un posto dove avvengono terremoti più raramente ma quello che possiamo fare è intervenire sul costruito per ridurre la vulnerabilità e la riduzione della vulnerabilità come ci dice tra poco l'ingegner Morandi della fondazione Ossentere si può fare con diverse strategie con strategie tradizionali siamo abituati agli interventi di rinforzo, di riparazione, messa in sicurezza e siamo anche in parte fortunati perché nel quadro del rilievo del danno osservato abbiamo potuto anche in alcuni casi verificare direttamente l'efficacia di alcuni interventi che sono stati eseguiti tuttavia quello che noi possiamo fare con questi dati è fare una previsione del rischio cioè delle perdite attese, dei danni attesi e magari con le tecniche innovative di cui parleremo oggi potremo rivedere queste previsioni o valutare quale può essere l'impatto su queste previsioni dicevamo che su questo tema il rischio sismico è fatto da fondamentalmente questi tre ingredienti per eclosità, vulnerabilità ed esposizione è molto importante anche il tema dell'esposizione cioè dell'associazione del singolo manufatto a una certa tipologia di costruzioni che può essere più o meno vulnerabile questa divisione dipende dall'età di costruzione può dipendere dalle dimensioni della struttura dalle caratteristiche che ha la chiesa qui abbiamo una serie di elaborazioni che possiamo fare anche sull'agibilità sulla relazione tra agibilità e danno ci sono tutta una serie di considerazioni che possiamo fare e che potremmo fare se avessimo un database organico tra il database del danno che ci dice la vulnerabilità e il database descrittivo delle caratteristiche che sono presenti in questi manufatti e non è che ci inventiamo nulla di nuovo nel senso che certamente la CEI ha lavorato a un suo database adesso vado rapidamente a queste sono le informazioni che ci servirebbero ecco chiesa per chiesa e i database di esposizione sono appunto quello della CEI c'è il database anche il famoso vincolo in rete e il database del Ministero dei Beni Culturali ci sono una serie di informazioni già raccolte tuttavia il formato di queste informazioni non è omogeneo quindi diciamo questo è un lavoro che sarebbe diciamo bello fare in collaborazione proprio per migliorare ulteriormente e sfruttare ancora meglio tutte queste informazioni che le chiese racchiudono in sé questa è la raccolta delle informazioni l'informatizzazione che è stata già fatta dalla fondazione EOSENTER di tutte le chiese almeno di queste regioni che sono state quindi sono state georeferenziate quello che manca è associare a ciascuno di questi puntini un'informazione di dettaglio sulle chiese questo è un aspetto importantissimo anche per definire delle politiche di prevenzione perché una volta che noi conosciamo come sono fatti i beni noi possiamo fare delle previsioni di quello che ci aspetta non sappiamo quando esattamente questo purtroppo ancora è il tema che ci manca ma sappiamo che lì in quel punto in quel posto ci aspettiamo terremoti caratterizzati da una certa severità con una certa probabilità di occorrenza nel tempo sapendo questo noi sappiamo che in una logica parlavamo di economia circolare parliamo di sostenibilità parliamo di una logica di quello che viene chiamato adesso il life cycle assessment qui diciamo noi vorremmo che il life cycle cioè che la parte life sia più lunga possibile per questi beni quindi dobbiamo cercare di mantenere di ravvivare questa vita anche di questi edifici che sono così importanti per queste comunità quindi diciamo da questo punto di vista il rilievo della vulnerabilità e il miglioramento delle informazioni sui beni esposti a rischio sono gli ingredienti fondamentali se vogliamo davvero avere una politica di prevenzione con questa chiudo e ringrazio per l'attenzione chiudo con l'immagine di un campanile danneggiato ad Amatrice per lasciare i colleghi grazie grazie professor Andrea Penna adesso facciamo un trasferimento dati un attimino solo quindi ringrazio veramente le osservazioni io avevo avuto modo di seguire questa presentazione del professor Penna in un incontro che abbiamo fatto proprio presso EU Center è l'Università di Pavia l'EU Center di cui adesso il professor Paolo Morandi ingegnere Morandi ci racconterà un po' l'attività che viene svolta è il centro europeo di formazione e ricerca di ingegneria sismica in attesa è molto interessante perché loro avevano già come attività di anche il professor Penna è stato direttamente all'interno dell'EU Center e io ho trovato molto interessante credo che molti di voi magari già sia di conoscenza sia vostra conoscenza come si è formato questo centro e perché questo grande centro di eccellenza che abbiamo in Italia e che affianca l'Università di Pavia ed è veramente un luogo credo che ci possano invidere in tanti io vorrei visto che Paolo è impegnato due parole da come si è costituito l'EU Center e come mai e come fa l'EU Center ad essere diciamo una costola attiva produttiva dell'Università di Pavia perché comunque anche questo fa parte nell'ambito di questi temi che stiamo affrontando oggi della conoscenza e della ricerca anche perché c'è molta attività anche di consulenza che viene poi posta anche all'esterno vuole parlare il professor Andrea? Sì 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 dico giusto due parole per fare la storia come me anche il professor Lai diciamo ha visto nascere la fondazione EU Center anzi prima non si chiamava neanche fondazione era solo EU Center il professor Lai addirittura era la matricola numero uno dei dipendenti di EU Center io il tre purtroppo diciamo la storia di EU Center è una bella storia è una storia di successo ma è una storia che purtroppo succede in Italia nasce le sue origini da fatti da fatti tragici voi vi ricorderete tutti lo sdegno che abbiamo provato tutti tra il 31 di ottobre il primo di novembre del 2002 quando in un comune del Molise San Giuliano di Puglia per effetto di un evento sismico è crollata una scuola quel comune non era classificato come comune diciamo in zona sismica all'epoca si parlava addirittura di comuni non sismici benché uno studio in cui si ne proponeva la classificazione addirittura in zona sismica 2 giaccesse in alcuni uffici era già stato redato da un gruppo di lavoro che lavorava con il servizio sismico nazionale della protezione civile quella è stata un'occasione scatenante che ha colto diciamo insieme due aspetti uno che avevamo una classificazione del territorio purtroppo inadeguata non aggiornata e che questa classificazione era stata purtroppo aggiornata a chiazze a seguito di vari terremoti che si erano susseguiti negli anni in decine di anni senza che ci fosse stato invece uno studio organico per aggiornarla e su quello però avevamo a disposizione il più grande istituto europeo uno dei più grandi istituti al mondo di geofisica e vulcanologia che è l'instituto di NGV che era l'ente ideale a cui affidare uno studio del genere e così è stato fatto un gruppo di lavoro formato del NGV è stato incaricato di adeguare e di redare una nuova mappatura sismica del territorio che a seguito dell'ordinanza 3274 del 2004 allegato 1 è stata promulgata insieme a questo l'altro strumento di protezione sismica del territorio che è la normativa si è appunto è emerso il fatto che nonostante i docenti italiani i ricercatori italiani avessero dato un grande contributo nella stesura degli eurocodici la norma vigente in Italia era ancora quella che di fatto derivava dalle norme degli anni 80 e quindi avevamo un gap di almeno 20 anni tra le due normative con tutta una serie di sviluppi di ricerche che erano stati fatti che non erano andati a sistema che non erano stati implementati nelle norme e quindi l'allegato 2 vi ricorderete era una normativa sismica d'urgenza quindi non pubblicata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma pubblicato dalla ordinanza dal presidente del consiglio dei ministri quindi il sottosegretario in particolare era il capo della protezione civile in quel adesso fa l'assessore in Lombardia mi risulta insieme a questo sono stati istituiti delle strutture delle infrastrutture di ricerca che aiutassero a collegare meglio lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasposizione di queste scoperte di questi avanzamenti scientifici nel mondo della pratica professionale nella protezione dai rischi naturali questi due centri sono la fondazione un centro che ha un grande laboratorio di ingegneria sismica con alcuni strumenti come dirà forse anche il dottor Morandi ingegnere Morandi professor Morandi chiamiamolo come vale tutto lo dirà lui stesso è dotato di alcune attrezzature sperimentali uniche al mondo e in particolare certamente in Europa Pavia con l'eocentre con la tradizione che c'è all'università con una tradizione aggiuntiva che si è diciamo localizzata nello IUS istituto universale di studi superiori e insieme questi enti sono stati in grado di ospitare la fondazione GEM che è Global Earthwork Model cioè una fondazione voluta dall'Ocse per la riduzione e la modellazione del pericolo sismico nel mondo tutto questo è appunto una fa di Pavia una piccola capitale dell'ingegneria sismica mondiale e le attrezzature che sono a Pavia diciamo non sono presenti in nessun altro luogo in Italia e anche in Europa ci sono alcune singole realtà in cui ci sono magari muri di riscontro di altezza simile oppure abbiamo una tavola grande abbastanza ma meno potente per trovare qualcosa di confrontabile dobbiamo andare all'Università della California a San Diego in Giappone e alcune nuove realtà che stanno realizzando in Cina questo è diciamo un po' questo è un grande motivo di orgoglio diciamo per l'Italia la Lombardia insomma penso che possiamo essere tutti contenti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti